Gaetano Sirocchi, presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato di Fermo, questa manifestazione, il Memorial che ha raccorto ben 1030 euro che sono stati devoluti all'AMPOF è un segno importante per questa realtà? Assolutamente sì, quindi abbiamo visto oggi il connubio tra le attività sportive, quindi la partecipazione, il divertimento, ma non solo, quindi questa sfaccettatura sociale di contributo per donazioni, associazioni oltre che sportive tipo l'Aido o quant'altro, benissimo, quindi continuiamo su questa strada perché è doveroso che lo sport sia vicino in maniera trasversale anche a altre tipologie di attività. Ho sentito appunto gli iscritti, 170 partecipanti, benissimo, la giornata ci è stata vicino quindi il tempo ha retto, nonostante purtroppo siamo a novembre e ecco, il circuito 4M sicuramente è pronto per la ripartenza dell'anno sportivo successivo. Ecco, siamo qui e oggi con la festa del ciclismo andremo a onorare la partecipazione e l'impegno delle società e anche degli atleti si sono distinti appunto in questa stagione che come vedete è partita nella primavera scorsa e siamo arrivati al termine ma come ho detto poc'anzi sicuramente servirà per ripartire alla grande nella primavera successiva. e auguro a tutti voi una buona permanenza nella giornata di oggi e ci vedremo prossimamente.